L'amministrazione comunale di Feltre ha approvato l'intervento di manutenzione straordinaria che interesserà il palaghiaccio Driole Rive, rendendolo conforme alle norme di sicurezza e agli standard di economicità più moderni. La Giunta, infatti, ha dato l'ok al progetto esecutivo che riguarda il secondo, terzo e quarto lotto di interventi inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e cofinanziato dal Fondo Comuni Confinanti. Le opere in progetto riguarderanno prevalentemente le strutture di copertura che accusano un generale degrado dell'orditura secondaria, il progressivo deterioramento di tre puntoni di sostegno delle travi principali e del tavolato di copertura con il manto soprastante. Gli impianti esistenti di illuminazione ordinaria, di emergenza e di diffusione sonora del campo e delle tribune risentono di 30 anni di servizio e sono inefficienti per resa e qualità. Si procederà dunque con l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione con moderni apparecchi LED ad altissima efficienza con un sistema di regolazione dell'intensità per adattare il flusso luminoso alle diverse esigenze e ridurre ulteriormente il consumo energetico. Il quarto lotto del progetto riguarda infine l'integrazione delle vie d'esodo. Sarà raddoppiata la larghezza del varco verso il ballatoio afferente agli spogliatoi pubblici e sarà inoltre ricavato un secondo varco di due moduli verso la rampa di accesso alla tribuna nord, un terzo varco sarà infine realizzato all'estremità ovest. Prima di questi c'era stata l'approvazione del progetto della cabina elettrica che è già dato in appalto e quindi con questo importo lavori di circa 1.600.000 euro contiamo di chiudere per quanto riguarda il palazzetto. Poi rimane un ultimo stralcio di lavori che riguarda il corpo di fabbrica principale dell'edificio, quello diciamo dove ci sono gli uffici, dove va previsto l'ampliamento degli spogliatoi e qualche altro lavoro, ma questo andrà più avanti. I tecnici ci informano che il cronoprogramma prevede l'inizio dei lavori subito dopo la fine della stagione del ghiaccio, quindi intorno alla fine di aprile e prima di maggio, contiamo appunto di stare in tempistica per rieprire poi la stagione invernale non appena i lavori sono finiti, quindi verso fine settembre e inizio ottobre massimo.